Intervenuta in diretta su Cilento Channel, l'assessore regionale Lucia Fortini ha aggiornato telespettatori e cittadini campani su tutte le attività amministrative di sua competenza, dichiarando che la regione Campania ha investito ulteriori 37 milioni di euro per il bonus studenti e per cui è stato pubblicato il primo elenco di famiglie beneficiarie su un totale di 250.000 domande pervenute. L'assessore ha specificato che man mano in breve tempo saranno pubblicati sul sito della regione tutti gli elenchi delle famiglie beneficiarie. Per il bonus pensioni, ovvero l'integrazione per arrivare a 1.000 euro, l'ente ha già liquidato all'Inps 165 milioni di euro e dal 29 maggio partiranno le liquidazioni per circa 250.000 pensionati che riceveranno il bonus per il mese di maggio e giugno 2020. I bonus dedicati alle famiglie con a carico persone con disabilità stanno arrivando a step. Più della metà dei beneficiari ha ricevuto gli aiuti economici. Per il bonus dedicato agli studenti, denominato IoStudio, bisogna attendere i tempi amministrativi del Ministero affinché stanzi la quota che spetterebbe alla Campania per poi girarla agli studenti. Lucia Fortini ha elogiato i dipendenti regionali per lo sforzo enorme che hanno fatto durante la pandemia e che fanno ancora adesso, lavorando senza sosta, per assicurare che i bonus e gli incentivi arrivino il più presto possibile. In conclusione del collegamento in diretta, l'assessore ha dichiarato che parte della quota dell'istruzione dedicata alla fascia 06 stanziata dal MIUR alle regioni sarà destinata alle scuole private che sono in seria difficoltà. Anche in questo caso bisognerà attendere il Ministero. Infine ha terminato dicendo che tra oggi e domani incontrerà l'Associazione dei pediatri per la ripartenza dei campi estivi e discutere su come organizzare il prossimo anno scolastico. Avremo un incontro insieme al Presidente De Luca con i pediatri della nostra regione per immaginare come dovrà cominciare il prossimo anno scolastico e naturalmente uno degli argomenti che sarà affrontato riguarderà i più piccini soprattutto per quanto riguarda i campi estivi ma anche la possibilità per molti di loro naturalmente di riappropriarsi di alcuni spazi sia per quanto riguarda le scuole che per quanto riguarda che ne so giardini piuttosto che musei. Insomma ci sono delle linee guida che la Ministra Bonetti ha emanato. Naturalmente per quanto riguarda la nostra regione saremo particolarmente attenti perché so soprattutto per quanto riguarda i campi estivi che sono particolarmente richiesti anche perché la fase dello smart working per molti sta andando via via scemando per cui tornando al lavoro naturalmente ci sono anche molte famiglie che hanno problemi dal punto di vista logistico.